Buongiorno, vorrei come prima cosa ringraziare Gabriele Finalli e Letizia Ruiz per avermi invitato qui oggi a tenere questa relazione su un argomento a me molto caro, cioè la Roma al tempo di Maino. Come ha detto Gabriele Finalli nel corso di una ricerca durata due anni e svolta da 20 ragazzi studiosi fra storici dell'arte e archivisti perché ci voleva la doppia competenza naturalmente per leggere bene i documenti d'archivio, gli storici dell'arte dovevano riconoscere i nomi e gli archivisti dovevano leggere effettivamente quello che era scritto e vi assicuro che era un'impresa veramente difficile talvolta perché i parroci che facevano questo vero e proprio censimento a Roma erano spesso stranieri, quindi non capivano bene i nomi oppure erano italiani e capivano male il nome degli artisti stranieri. Insomma abbiamo affrontato tutta una serie di problematiche notevoli. Comunque alla fine di questa ricerca che appunto è durata due anni e ha tenuto impegnati 20 studiosi abbiamo raccolto veramente una molle di documenti non indifferente, sono in tutto 6.500 documenti relativi ad artisti presenti a Roma nelle 70 parrocchie romane tra il 1600 e il 1630, sono solo 30 anni, i 30 anni più importanti credo per la storia culturale artistica di Roma e in questi 30 anni sono appunto venuti fuori 6.500 documenti. Naturalmente non si riferiscono a 6.500 artisti e gli artisti citati sono in realtà soltanto 2.200, però insomma sono comunque sufficienti e di questi il dato più impressionante è che di questi 2.200 artisti che erano presenti a Roma in questi 30 anni, solo un centinaio, 150 sono nomi noti. Questo cosa vuol dire? Che in realtà noi facciamo la storia dell'arte su, studiamo la storia dell'arte su 100 nomi su 2.200, quindi quando noi abbiamo dei problemi di attribuzione, chi sarà questo artista, sarà quello, sarà quello, in realtà conosciamo solo la punta di un iceberg e questo secondo me è un dato che bisogna sempre tenere ben presente quando facciamo appunto le nostre attribuzioni e i nostri studi. Non sappiamo assolutamente niente, quindi del 98% degli artisti che sono citati in questi stati delle anime, però come in questo caso devo dire sollecitata da Gabriele Finaldi sono andata a vedere in effetti se Maino era a Roma e in effetti c'era. Come vedremo c'erano altri artisti spagnoli e oggi anche se diciamo la cosa forse non è particolarmente citante, vi ho portato tutti i loro nomi, non sono moltissimi, sono una quindicina, perché mi auguro che qualcuno di voi, soprattutto i ragazzi, siano stimolati a approfondire questo argomento e a capire chi erano effettivamente questi spagnoli che erano a Roma. La colonia spagnola è fra quelle diciamo meno consistenti in Italia, a Roma, in questo periodo. Sicuramente gli artisti più numerosi stranieri erano i francesi, che sono quasi 200, seguiti poi dai fiamminghi, i fiamminghi sono un numero spaventoso, anche quelli superano i 200 circa, e quindi il numero di 15, vabbè che i 15 io li ho calcolati dal 1600 al 1610, cioè nei dieci anni in cui Maino, in questo primo decennio in cui Maino è stata a Roma, quindi mi pare che in tutto saranno una trentina, non di più, però insomma la colonia di artisti spagnoli non è particolarmente numerosa a Roma in questi anni e questo bisognerà anche capire come mai, perché? Andiamo un po' a vedere questi, almeno un po' di questi documenti. Allora intanto cominciamo dai documenti che sono usciti fuori da Maino, questo è lo schema un po' del mio intervento, poi ci sono i documenti dei pittori spagnoli al tempo di Maino, quindi 1604-1610, e poi ci sono, ho voluto fare una carrellata perché non può essere altro, degli artisti e le opere più importanti che erano a Roma al tempo di Maino, cioè tra il 1604 e il 1610. Cominciamo appunto con Maino. Il primo documento che lo riguarda è del 1605, ed è relativo al battito, perché voglio precisare, i libri parrocchiali che abbiamo studiato, non sono solo gli stati delle anime, appunto che ha citato Gabriele Finaldi, ma in realtà sono tutti i libri parrocchiali, cioè sono conservati i libri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti naturalmente, e incrociando questi dati è stato possibile spesso risalire alla vera identità di pittori che altrimenti erano così sfuggivano, erano sconosciuti o erano, diciamo così, scritti diversamente, per dire uno stesso pittore è scritto, magari compare in due o tre documenti, scritto ogni volta in maniera diversa. Però se noi sappiamo che la casa era quella, che la moglie si chiamava in quel modo e che i figli si chiamavano nello stesso modo, è chiaro che abbiamo potuto fare degli importanti collegamenti. Raccontavo ieri a Gabriele che questo studio confluirà in un volume che si chiamerà in maniera simbolica alla ricerca di Guiongrat, è un nome stranissimo, Guiongrat, ma è un nome che ci ha fatto impazzire perché non riuscivamo a capire chi poteva essere. Alla fine, facendo appunto questo incrocio dei dati, siamo riusciti a capire che in realtà era la trascrizione, naturalmente probabilmente fatta da un parroco italiano che poco capiva, del nome del pittore Krabet, quindi lui chissà che cosa ha capito e ha scritto Guiongrat, però poi questo Guiongrat diventa poi in altri documenti riferiti a lui, diventa Krabet e quindi a quel punto abbiamo capito che effettivamente anche questo stranissimo nome si riferiva a lui. Ecco, ritorniamo a Maino. Maino ha appunto il primo documento, è nel libro dei battesimi, cioè il libro dove erano conservati naturalmente tutti gli atti di battesimi sempre relativi alle 70 parrocchie romane e nella parrocchia di San Lorenzo in Lucina, che era quella più popolata insieme a quella di Santa Maria del Popolo e di Santa Andrea delle Fatte, diciamo il centro di Roma, era quello più popolato di artisti, compare nell'ottobre del 1605 il battesimo del figlio di Giovan Battista Maino, spagnolo, un bambino di nome Francesco che lui ha avuto da una donna, Anna de Bargas, anch'essa spagnola, che è nato il 6 di ottobre e viene battezzato il 17 da questo Petro Angelino che era nel parroco e i padrini di battesimo, i padrini di battesimo sono sempre dei personaggi molto importanti perché naturalmente tutti facevano, non solo Maino, ma insomma in generale le persone facevano battezzare i figli alle persone più importanti che conoscevano e come poi vedremo questi nomi sono molto rivelatori per capire tutta una serie di legami. Maino, appunto, scelse come padrini Francesco Arias Picardo, anche due spagnoli, Francesco Arias Picardo e Isabella de Castiglione, anch'essa spagnola. Quindi questo che ci dà una serie di informazioni. Il primo è curiosamente la data del battesimo del figlio di Maino è molto più tarda di quello della nascita. Lui è nato, abbiamo visto il 6, e viene battezzato bene 11 giorni dopo. Questa è una cosa molto molto strana perché normalmente il battesimo avveniva uno, massimo due giorni dopo. Questo vuol dire che probabilmente c'erano stati dei problemi alla nascita, quindi magari questo bambino, non lo so, o non era in grado di ricevere il battesimo, non lo so. Comunque questo è un dato anomalo da segnalare. La seconda, appunto, è che questo piccolo Francesco Maino è un figlio illegittimo, non sono sposati Maino e la Anna, ma è un figlio naturale e i due genitori non avevano contratto matrimonio. Anche questo non è un fatto molto usuale. Normalmente i figli nascevano da coppie sposate e il fatto che due spagnoli, presumibilmente cattolicissimi, non fossero sposati è, insomma, un'anomalia. Anche, appunto, la madre, Anna de Bargas, è spagnola e come ipotizza Gabriele Finalde, forse della zona di Toledo, dove, appunto, questo cognome era particolarmente diffuso. Andiamo avanti. I due padrini, come abbiamo visto, sono due spagnoli. e, quindi, questo che cos'è? Presuppone il fatto che Maino non si era ancora perfettamente integrato nella società romana. Vediamo, vedremo poi dopo, che altri spagnoli faranno battezzare i figli da personalità italiane e questo, naturalmente, favoriva l'integrazione nella società romana dell'epoca. Un'altra notazione che si può fare è che la nascita del figlio all'inizio di ottobre presuppone un inizio di gravidanza forse a gennaio, giù fra dicembre e gennaio. E qui si pone un problema. Chiaramente, dove è stato concepito questo figlio? È stato concepito in Spagna? Si conoscevano già prima i suoi genitori? Oppure si conoscevano, si sono conosciuti a Roma? Se si sono conosciuti a Roma è chiaro che la presenza di Maino a Roma deve essere anticipata perlomeno a dicembre-gennaio, a dicembre dell'anno prima o gennaio 1605. Presumendo che i due genitori si siano conosciuti a Roma bisogna anticipare ancora un po' la presenza di Maino a Roma visto che non è che uno conosce una signora e poi immediatamente ci fa un figlio quindi ci vorrà un minimo di così, di conoscenza se non altro. Quindi insieme con Gabriele Finaldi abbiamo in effetti stabilito che probabilmente la cosa più probabile è che i due si siano conosciuti a Roma e quindi si sposta l'arrivo di Maino a Roma al 1604. Non abbiamo la possibilità di verificare questa ipotesi perché come facilmente si può comprendere a distanza di tanti secoli questi elenchi delle stati e delle anime soprattutto sono molto laconosi sono più diciamo meglio conservati i libri parrocchiali dei battesimi delle morti e dei matrimoni e invece quelli degli stati e delle anime sono molto laconosi per cui non abbiamo gli stati delle anime della parrocchia di San Lorenzo e Lucina dal 1600 al 1606 e perché appunto e questo è un grave naturalmente è una perdita gravissima perché appunto a San Lorenzo e Lucina come ho detto vivevano moltissimi artisti non solo Maino ma insomma era proprio la parrocchia più popolata di Roma da parte degli artisti ancora l'ultima notazione non abbiamo più notizie di Anna e Francesco nei successivi stati delle anime in cui è presente anche Maino questo vuol dire due cose o che Anna e Francesco sono tornati in Spagna ma questo mi sembra piuttosto strano visto che Maino invece con ogni vorrabiltà rimase in Italia oppure che sono morti questo è in effetti il dato più probabile anche perché all'epoca appunto la mortalità infantile e quelle delle madri morte di parto era altissima quindi basta scorrere qualcuno dei libri dei morti per rendersene conto quindi diciamo che è molto molto probabile che in realtà i due siano morti subito dopo o di parto o subito dopo il parto dunque gli altri due documenti sempre relativi a Maino appunto si trovano negli stati delle anime della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte che era limitrofa a quella di San Lorenzo di Lucina nel 1609 e 1610 gli stati d'Ania appunto era una sorta di censimento un controllo notivolissimo da parte della Chiesa Cattolica su tutta la la popolazione romana infatti tutti venivano a Pasqua schedati praticamente e veniva registrato di solito il nome il paese di provenienza l'età i figli i figli legittimi i figli legittimi e insomma qualsiasi dato era utile appunto per un controllo puntuale delle presenze a Roma e appunto soprattutto veniva segnato con molta evidenza il fatto se si erano comunicati o meno cosa che avveniva molto di rado per esempio di tutte le popolazioni olandesi o fiamminghe ecco qua quindi questo è il stato delle anime del 1609 dove compare la C sta per comunicato perché veniva appunto premesso al nome il fatto se si erano comunicati o meno quindi Giovanni Battista mai no perché questo perché sempre per assonanze si capiva non si capiva pittore Matteo Serrari pittore e Talla Scanio Cappello che però non è definito pittore quindi non non lo prendiamo in considerazione quindi appunto Maino risulta abitare con altre due persone uno dei quali è questo Matteo Serrari pittore che sempre secondo Gabriele potrebbe essere Gabriele Finali potrebbe essere Serran andiamo avanti l'altro documento si riferisce sempre alla Pasqua quindi i listati delle anime del 1610 troviamo Giovanni Battista Mainone anche qui sempre al solito le trascrizioni strane pittore spagnolo Giovanni Maria Treguagni Garzone Pietro Nagli studente spagnolo Agostino Pirro da Poglio la poi leggibile le parti leggibili naturalmente non abbiamo potuto trascriverle quindi abbiamo da questo terzo documento su Maino a Roma non c'è più appunto il Matteo Serrari compare invece un garzone Treguagni e questo effettivamente quando compaiono i garzoni abbiamo visto che appunto era perché lo status del pittore del maestro era cresciuto e quindi aveva bisogno se lo metteva su una bottega quindi come prima cosa veniva preso un garzone tra l'altro è interessante anche la presenza di questo Pietro Nagli studente spagnolo perché effettivamente non è indicato come pittore quindi nulla ci autorizza a dire che sia un pittore però è interessante la presenza di questo studente perché evidentemente questo indica che Maino era diventato un po' un referente per gli spagnoli a Roma cioè se addirittura uno studente spagnolo va a abitare a casa sua quindi sembra questo documento per come è concepito sembra effettivamente indicare primo una sicuramente una decisa innalzamento del livello sociale dell'artista l'inizio di un abbozzo di bottega e poi appunto che lui ospitava altri spagnoli quindi evidentemente aveva le possibilità per poterlo fare e curiosamente di questa attività di Maino a Roma non abbiamo alcuna traccia e questo io invito i ragazzi spagnoli dell'università spagnola a venire a Roma e cercare di trovare qualche traccia oltre diciamo archivistica ma anche qualche traccia pittorica della presenza appunto di Maino andiamo avanti questa è la presenza ecco adesso passiamo agli altri spagnoli che sono citati negli stati delle anime o nei libri parrocchiali ho abbreviato molto diciamo i dati perché sennò sarebbe stato troppo lungo qui abbiamo un egidio spagnolo garzone di Giacomo de Asa nel 1604 questo Giacomo de Asa è un personaggio importantissimo era un fiammingo che teneva proprio una locanda per giovani pittori dove passano nel corso di questi 30 anni perché lui ebbe una vita lunghissima poi la moglie anche seguitò ad ospitare i ragazzi quindi era un albergo diciamo così e passano da lui in una diciamo anche compare certe volte addirittura avere 10-15 garzoni o comunque pittori ospiti quindi questo è tra l'altro uno dei centri più importanti di accoglienza dei giovani pittori che arrivavano a Roma abbiamo poi nel 1604 Gaspare Strada spagnolo che è il padre di Vespasiano Strada ben più noto che aveva sposato la senese Virginia de Benzi che è morta nel 1614 e che è documentato dal 1604 il figlio Vespasiano Strada che è il figlio maschio maggiore di Gaspare della consorte senese vedete si era già integrato con si è sposato con una senese quindi Gaspare Strada si è integrato perfettamente Vespasiano Strada quindi è un figlio di uno spagnolo e di una senese è un artista che viene niente muore poi nel 22 abbiamo trovato ed è una cosa curiosa lui è documentato mi pare dal 1604 però negli anni dal 1611 al 1614 nei libri dei morti risultano una serie di bambini ma non dei suoi figli che muoiono continuamente ogni pochi mesi insomma c'è qualche bambino che muore a casa sua e abbiamo pensato che forse la moglie Angela faceva la balia perché non si spiega se no la presenza di tutti questi bambini in casa sua che non sono figli suoi e che poi muoiono ancora è presente tra il 1604 e il 1609 Pietro Riera o Riero che è uno spagnolo e anche questo non sono riuscita a capire chi è questo Egidio Ximenez nel 1605 e 1606 che tra l'altro è curioso perché nella parrocchia dei San Nicola dei prefetti che è la stessa parrocchia dove nello stesso anno 1605 abitava anche Caravaggio poi c'è Lorenzo Gonzales della Galizia spagnolo ecco questo è documentato dal 1605 al 1610 ma poi anche successivamente io ho limitato le citazioni adesso per non appesantire troppo al 1610 ecco questo invece è un perfetto esempio di integrazione del di 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 spagnolo nell'ambiente storico artistico romano nel 1605 infatti lui si sposa con questa romana Caterina Lopez anche se questo cognome Lopez sa tanto di spagnolo e però insomma la citazione romana è nel documento quindi l'abbiamo riportato così e nello stesso 1605 lui compare nella parrocchia di Santi Celso è Giuliano per il battesimo della figlia e il padrino del battesimo è il pittore fiorentino Cesare Dandini quindi evidentemente lui faceva parte di quest'area culturale dei fiorentini a Roma e fa battezzare la figlia appunto al pittore fiorentino Dandini così nel 1606 battezza un'altra figlia in San Lorenzo in Lucina e la madrina è Aurelia Baglione la moglie di Giovanni Baglione che all'epoca tra l'altro aveva un potere immenso era una sicuramente delle figure di riferimento per un pittore straniero a Roma ecco vedete queste sono diciamo le notizie che ci dicono ok questo è un pittore che si è in qualche modo integrato che fa parte di una bottega di un giro di un giro che è non solo bottega ma anche committenze e invece come abbiamo visto Maino non ha nulla di tutto questo altro pittore spagnolo Domenico Tresegni del 1607 1609 lo stesso sono tutti ovviamente documenti da studiare perché noi su 2200 nomi chiaramente non è che possiamo studiare ognuno di questi quindi vi offro questa diciamo così tutti questi dati nella speranza che qualcuno si voglia 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 approfondire questo argomento ancora abbiamo Francesco di Giovanni Calvo Samonenz spagnolo 1607 Giuseppe Padules spagnolo sempre nel 7 Lorenzo da Silva spagnolo tra il 1607 e il 1609 e poi c'è quello che così diciamo mi incuriosisce più di tutti è questo Luigi spagnolo pittore che per cui qui propongo un'identificazione con Luis Tristan che è documentato nel 1607 e 1609 nel 1607 in San Lorenzo in Lucina via Condotti si trova in casa del canonico di Toledo Luigi Ubiedo e naturalmente risulta comunicato nel 1609 lo stesso in San Lorenzo in Lucina in casa sempre del canonico di Toledo Luigi Ubiedo poi ancora ci sono da citare Diego Machado spagnolo e Diego pittore che invece è partito ma insomma così sono un pochino Diego pittore è partito diciamo che lo diamo per perso perché non sappiamo assolutamente niente di lui quindi abbiamo visto che gli elementi di spicco spagnoli che sono usciti da questa ricerca sono Vespasiano Strada che è nato nel 1582 e è morto nel 1622 come abbiamo visto e Tristan e che appunto sono le due personalità più illustri Vespasiano Strada è un pittore citato anche da Baglione tra l'altro ci dà una notizia interessante si formò nelle Accademie del Naturale e questo ci dà un'indicazione molto precisa le Accademie del Naturale a Roma non erano molte la più importante era quella di Giovanni Battista Crescenzi dove si formò anche il giovane Cavarozzi quindi questa è una notizia molto interessante in realtà Vespasiano Strada non sembra aver risentito molto di questa Accademia del Naturale vi ho portato qui alcune foto lui fu molto attivo a Roma vi ho portato qui alcune fotografie di sue opere da cui si vede chiaramente proprio legato al mondo tanto manieristico romano ma neanche quello del primo decennio addirittura quello dei decenni precedenti queste sono le storie di San Feliciano di Foligno questo è un affresco che è a San Giacomo al Corso quest'altro è San Diego la storia di San Diego in Santa Maria di Araceli questa è la sua committenza più importante come vedete insomma qui ci sono chiarissimi sia nelle impostazioni diciamo struttulare della scena sia nelle singole figure vediamo che appunto dipende completamente da quello che è il clima tardomanieristico romano invece molto più interessante sono questi documenti su Louis Tristan che appunto come abbiamo visto sia nel 1607 che nel 1609 il 1608 è uno degli anni perduti quindi è a casa del caronico di Toledo lui è nato a Toledo come tutti sapete si è formato un allievo di El Greco e però come dicono le fonti spagnole soprattutto Giuseppe Martinez si completò la sua formazione a Roma dove fu lui precisa fa questa precisazione molto importante con Ribera ora questo storico Martinez è considerato normalmente attendibile quindi non so non ho motivi di mettere in dubbio questa questa affermazione che per noi è molto importante perché chiaramente lui dice che a Roma i documenti spagnoli diciamo così dai documenti spagnoli già si sapeva che non risultava in Spagna dal 1606 al 1612 e questi in questi anni corrispondono effettivamente a quello che confermano gli stati delle anime romani e quindi è del tutto plausibile che lui fu a Roma dal 1606 al 1611 forse visto che noi abbiamo questa documentazione che sicuramente va dal 7 al 9 ma appunto data le assenze e le mancanze degli stati delle anime in questi anni non mi stupirei se effettivamente questa dal 6 al 12 o all'11 fossero le date in cui Tristanne a Roma allora se Tristanne a Roma in queste date come sembrano confermare anche questi nuovi documenti degli stati delle anime quindi c'era anche Ribera e questa forse la cosa più eclatante perché la presenza di Ribera in Italia è attestata a oggi solo dal 1611 a Roma poi dal 1613 se non ricordo male quindi questo anticipa di molti anni la presenza di Ribera a Roma se vogliamo darlo storico Martinez che appunto ci dice che i due erano a Roma in quegli anni e questo insomma dà molto da pensare e impone una revisione anche della cronologia di Ribera il fatto che appunto dell'identificazione di questo Luigi Pittore con Tristan diciamo è convalidata a mio avviso dal fatto che lui sta in casa dell'Arcivillue di Toledo e sta in casa del canonico di Toledo che mi pare che non tra l'altro vicina alla Chiesa della Trinità degli Spagnoli quindi insomma è comunque un dato piuttosto significativo rispetto a quello a Maino rispetto anche a quello che abbiamo visto Vespasiano Strada Tristan assorbe in maniera più diretta e molto più intensa quelli che erano gli influssi di Caravaggio basta vedere questo magnifico quadro dunque che si trova a Segovia nel più pure stile caravaggesco come luci come taglio delle figure come impostazione del fondo abbiamo un come resa ottica del vero addirittura questa croce che come faceva sempre Caravaggio crea un ponte cioè sembra quasi venire verso lo spettatore abbatte quasi la barriera fra lo spazio reale e quello dipinto questa è una tecnica che Caravaggio usa sempre mette sempre qualche cosa che cerca di penetrare lo spazio reale questo come è stato giustamente già notato deriva dal quadro di Ter Bruggen che tra l'altro era anche lui a Roma proprio dal 1604 circa quindi questi contatti sono molto interessanti questa foto diciamo così questo confronto lo mette in evidenza molto molto bene e un altro però interessante confronto a mio avviso si può fare proprio fra questa figura di Tristan e il San Francesco in meditazione di Caravaggio che oggi che era Carpineto Romano adesso è in deposito alla Galleria Nazionale d'Arte Antica vedete queste le due figure in meditazione ma soprattutto la parte relativa al modo con cui San Francesco regge il teschio secondo me presuppone una conoscenza dell'originale caravaggesco e anche questa che è un'altra opera di Tristan che è a Siviglia potrebbe avere dietro un modello il modello di Caravaggio questa è un'altra magnifica Maddalena con una natura morta assolutamente strepitosa e questo è il famoso pentimento di Pietro anche questo naturalmente ripreso moltissimo dalla pala d'altare della Cappella Contarelli dal San eccola qui dal San San Matteo e l'Angelo e per cui è stato accostato Maino ecco questo è un interessantissimo confronto bisogna vedere chi ha fatto prima chi ha inventato questo modello prima ma indubbiamente è chiaro che i due se lo sono passato a meno che mi è venuto in dubbio anche che questo ha delle caratteristiche questo dipinto di Maino ha delle caratteristiche fortemente riberesche mi chiedo se ma questo è un problema naturalmente che lascio aperto se in effetti fra Tristan e Maino ci fosse anche Ribera ancora Tristan due una Sacra Famiglia con Sant'Anna è un'altra Sacra Famiglia che ricorda molto sono del 1613 una firmata datata che può essere accostata alle opere di Carlo Saraceni del 1610 La Madonna con il Bambino e Santa Elisabetta e quella di Borgiani del 1609 che è la Sacra Conversazione tutte e due alla Galleria Nazionale d'Arte Antica qui evidente poi Borgiani con gli Spagnoli doveva avere un rapporto privilegiato visto che lui era tornato dalla Spagna nel 1605 e rimane in qualche modo collegato anche con manda opere qui in Spagna quindi indubbiamente ci doveva essere un legamo ancora tutto da scoprire fra Borgiani e gli artisti spagnoli adesso volevo fare veramente una carrellata perché di più non posso facendo vedere quelle che sono le grandi commettenze artistiche a Roma fra il 1600 e il 1610 cioè quello che Maino può aver visto a Roma cos'è Roma tra il 1600 e il 1610 il 1600 era l'anno santo l'anno santo era l'anno santo della grande riscossa della chiesa cattolica contro l'eresia luterana che fu festeggiato con un fasto e una così una grandiosità senza uguali proprio perché doveva celebrare la fine della grande paura la grande paura dell'annientamento della chiesa di Roma e voi sapete tutti che l'eresia luterana aveva provocato il distacco dalla chiesa cattolica di praticamente quasi tutta l'Europa del nord e anche la Francia con Enrico IV vacillava cioè lui era stato educato alla religione ugonotta quindi lui aveva delle così aveva c'era un reale pericolo del distacco anche della Francia in realtà poi per una serie di motivi questo non avvenne e quindi la Francia e la Spagna che all'epoca erano le più grandi potenze europee rimasero saldamente legati alla chiesa di Roma quindi Roma era salva aveva i suoi alleati i suoi forti alleati e quindi nel 1600 c'è la volontà precisa del Papa Clemente VIII Aldobrandini di celebrare questa vittoria si celebra come intanto restaurando tutte le chiese di Roma e i cardinali tutti i cardinali ognuno per il suo titolo naturalmente erano in qualche modo vincolati a provvedere al restauro di queste chiese che erano cadute in rovina e uno dei motivi più più interessanti è questo recupero della religiosità dei primi secoli cioè dei santi dei primi secoli proprio per contrastare quello che era stata una delle accuse più cocenti alla chiesa cattolica cioè appunto quella di essersi distaccata attraverso la vendita dell'indulgenza tutte quelle che erano le accuse di Lutero dalla purezza dei primi secoli e dei martiri cristiani quindi c'è tutta questa diciamo così volontà precisa del recupero del culto dei primi martiri recupero che tra l'altro ebbe una come dire una teorizzazione nei libri nei volumi degli annales di Baronio che appunto sulla base di antiche andò a recuperare proprio la storia di tutti i primi i primi santi i primi santi martiri in maniera tale che le chiese di Roma quella è la base su cui vennero studiate le iconografie degli affreschi che riempirono in quegli anni le pareti delle chiese di Roma comunque fra il 1600 e il 1610 i protagonisti era finita diciamo la grande ubriacatura dell'anno santo erano rimasti tuttavia a Roma molti degli artisti che erano accorsi per le grandi committenze di fine secolo e i protagonisti appunto a Roma in quegli anni erano uno il bolognese Annibale Carracci e la sua scuola la sua scuola che l'aveva raggiunto a Roma quando era al servizio dei Farnese per la grande galleria ed erano Guidoreni Albani Domenichino poi Lanfranco e Sisto Badalocchio l'altro grande è Caravaggio c'erano appunto i bolognesi allievi di Annibale i caravaggeschi che sono i seguaci di Caravaggio come tutti sapete Caravaggio non aveva una scuola e disprezzava molto anzi tutti coloro che lo imitavano per cui i caravaggeschi sono questi personaggi che si sono formati sulle sue opere pubbliche e che poi hanno continuato a diffondere il suo modo di dipingere almeno fino al terzo decennio quando lentamente escono di scena diventano fuori moda subentra il barocco quindi è chiaro che insomma i caravaggeschi vivono il loro momento di massimo splendore nei primi due decenni del secolo c'erano i toscani che erano a Roma fin dagli anni 90 e che tra l'altro sono quelli che hanno più committenze di paledaltare insieme ai bolognesi perché perché i caravaggeschi davano poche garanzie di 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 così di di soprattutto sul versante iconografico ma anche sul versante stilistico è chiaro che non non si fidavano i cardinali quindi chi in realtà fa in veramente incetta di queste di queste committenze per le chiese di Roma nel primo decennio sono i bolognesi e i toscani oltre ovviamente ai tardi maggiorissimi ma soprattutto bolognesi e toscani secondo le fonti abbiamo detto Martinez parla per Maino di un allunnato presso Annibale Carraccio di un'amicizia con Guidoreni andiamo a vedere un pochino quello che può aver visto Maino a Roma facciamo molto rapidamente se no ho paura di non riuscire ad arrivare in fondo allora qui la prima 1599 Annibale Carracci e la Santa Matergrita da Cortona nella chiesa di Santa Caterina dai Funari questo è un quadro fondamentale diciamo estremamente nuovo per Roma si dice che anche Caravaggio rimaneva ammirato e restava parecchio tempo a osservare e a studiare questo quadro questa è la grande galleria farnese del 1600 sempre di Annibale Carracci questa è la pala d'altare della Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo che appunto si trova del 1600 e si trova fra i due quadri di Caravaggio della Cappella Cerasi questa spettacolare figura della Vergine che con questo slancio sembra quasi uscire dal quadro e tra l'altro questa diciamo questa vitalità questa questa immagine quasi barocca della Vergine poi è bellissimo venendo da lontano è la prima cosa che si vede nella Cappella proprio sembra proprio correre incontro a chi entra e forse uno dei motivi per cui Caravaggio cambiò la sua prima versione della caduta di Saulo facendo tra l'altro la versione finale che è molto molto diciamo si rapporta con l'assunta di Annibale Carracci nella stessa Cappella ancora qui la Madonna dall'Annibale Carracci e la Pietà nel 1602-3 le lunette Aldobrandini e questo è del 1603 queste come abbiamo visto in mostra sono molto molto importanti oltre alla presenza di Alzheimer a Roma negli stessi anni per questa sensibilità che Maino sviluppa nei confronti del paesaggio ancora qui l'Annibale Carracci il trasporto della Santa Casa di Loreto del 1605 anche questo un capolavoro assoluto tra l'altro nella chiesa di Santo Onofrio al Gianicolo dove lavorava ha lavorato tanto con Dovenichino Vespasiano Strada questa è la cappella di la cappella del Herrera che era in San Giacomo degli Spagnoli che all'inizio dell'Ottocento è stata è stata smontata la pala d'altare è rimasta a Roma mentre gli affreschi staccati sono mi pare una ventina in tutto sono divisi fra Barcellona e il Prado una delle ipotesi che abbiamo fatto anche con Gabriele Finaldi era di vedere se riuscivamo a riunire dopo due secoli questa cappella e cercare tra la pala d'altare gli affreschi staccati di ricostituire uno dei testi perduti della storia dell'arte romana del primo seicento ecco questa è ancora la cappella Herrera anche qui vedete lo slancio di questa figura le citazioni classiche sono c'è molta presenza di aiuti però insomma è comunque la concezione generale e i disegni furono di Annibale Caravaggio forse non ha bisogno di presentazioni il debutto pubblico del 1600 nel 1601 nella cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi dove tra l'altro forse sapete che la scena con il martirio fu dipinta due volte di sana pianta cioè sotto questa versione finale c'è la prima versione completamente diversa che appunto che Caravaggio dipinse che poi a un certo punto però cambiò completamente d'altronde per lui questa è stata non solo la sua prima il debutto pubblico nel 1600 dopo gli anni trascorsi del Cardinal del Monte ma lui si doveva misurare in questa cappella con uno spazio ristretto ma invece con dei formati giganteschi calcolate che questi quadri sono circa tre metri e mezzo per tre metri e mezzo sono quasi quadrati e lui non era abituato lui aveva abituato a dei formati molto più piccoli quindi è del tutto logico che abbia dovuto perlomeno rifare due volte la scena con il martirio ecco qui la cappella Cerasi questa è la prima versione della caduta di Saulo che adesso è nella collezione Odescalchi i due quadri Cerasi in realtà sono ancora la prima versione dei due quadri Cerasi sono ancora avvolte dal mistero perché in realtà sembra farsi avanti farsi luce far luce adesso su questo presunto rifiuto che è citato da Baglione ma in realtà non è citato poi da nessun altro Baglione come sapete non era un amico di Caravaggio e lui disse Baglione dice non piacquero al padrone però il padrone cioè il Monsignor Cerasi era già morto quindi a chi è che non dovevano piacere non si capisce molto bene comunque fatto sta che andando avanti con gli studi in realtà ci stiamo rendendo conto e rileggendo soprattutto i documenti che probabilmente questi quadri rimasero nella bottega di Caravaggio fino al 1605 quando le due versioni su tela quindi non queste su tavola le due versioni su tavola furono sistemate nella cappella Cerasi e è del tutto probabile come che in realtà non è che questi due quadri sono stati rifiutati ma fu probabilmente lui a rendersi conto che nella stretta spazialità della cappella Cerasi in realtà un quadro di questo genere era assolutamente invisibile perché la cappella Cerasi è nel punto più largo è largo a tre metri tre metri non consentono lo so per esperienza personale perché sono riuscita miracolosamente a portare questo dipinto nella cappella Cerasi e vi assicuro che da tre metri cioè dalla parete di fronte questo quadro era assolutamente incomprensibile quindi si fa strada all'ipotesi che in realtà non siano stati rifiutati ma è Caravaggio stesso che rendendosi conto perché scusate i quadri furono commissionati prima dei lavori della cappella infatti se li tiene lui nello studio fino a che la cappella non è completata nel momento in cui la cappella è completata lui si rende conto che questi quadri non possono andare lì perché non si vedono e infatti elabora la nuova versione della caduta di Saulo che come forse si vede anche da queste diapositive cioè ha una spazialità completamente diversa mentre questo è un quadro che è fatto per essere visto da lontano questo è un quadro che è fatto come se fosse una macchina con un grandangolo cioè praticamente ha una prospettiva completamente schiacciata e in effetti si vede perfettamente nella cappella Cerasi che appunto come abbiamo detto ha questa profondità così limitata quindi lui a mio avviso ha studiato questa nuova concezione spaziale proprio dopo aver visto i lavori di completamento della cappella Contarelli inoltre e questa è una cosa che mi ha suggerito tanti anni fa Sir Dennis Maun ma ne sono assolutamente convinta questa posizione particolarissima del San di Saulo è esattamente corrisponde a quella dell'assunta di Annibale Caracci che sembra uscire anche lei con le mani così quindi si crea nella spazialità della cappella stando soprattutto in mezzo una cosa magica praticamente sembra come di essere lo spettatore sembra proprio di essere preso in questo abbraccio da una parte Saulo che è per terra tende le braccia così dall'altra l'assunta di Annibale che ha lo stesso gesto di fatto quindi tra l'altro appunto non solo lui secondo me tenne conto della spazialità della cappella ma vide anche in situ l'assunta di Annibale e si regolò di conseguenza scusate non vi avevo precisato che vediamo un po' se ti scottano indietro no che la che la 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 prima versione sul tavolo dei scalchi fu acquistata da Sannesio come dicono le fonti passò quindi al vicere intorno al 1646 il vicere di Sicilia di Napoli che la portò in Spagna gli eredi la vendettero alla fine del secolo e hanno un banchiere genovese a Irolo questa la cedette al Balbi e dai Balbi al fintaglio dei scalchi infatti è nella collezione dei scalchi e questo è la storia sintesi della caduta di Saulo in realtà i quadri che finirono in Spagna erano tutti e due cioè la caduta di Saulo e la crocifissione di San Pietro ora la caduta di Saulo è tornata dalla Spagna attraverso Genova e quindi è finita a Roma ma nulla si sa invece della crocifissione di Pietro e quindi io ho voluto qui portare queste due che sono considerate due copie della appunto della crocifissione di Pietro e di Caravaggio perché sono assolutamente convinta che sia ancora in Spagna e quindi questo è un invito a voi ragazzi cercatela perché effettivamente sarebbe veramente una cosa eccezionale poterla ritrovare probabilmente in qualche convento chissà bisogna andare negli archivi vedere le vie ereditarie le divisioni e cercare di tirarla fuori mi auguro che qualcuno di voi ci riesca ancora queste sono va bene le due tele che sono adesso nella cappella Cerasi la crocifissione di Pietro e l'abbiamo già vista la caduta di Saulo un'altra opera di Caravaggio che Maino può aver visto la pietà la pietà che adesso nel museo vaticani ma che fu fatta per la cappella Vittrici è un'ipotesi recente la colloca forse ragione intorno al 1600 quando è documentata una palla di Caravaggio di cui non si conosce il titolo e che potrebbe essere il soggetto e che potrebbe essere effettivamente questa che però andò in situ proprio nel 1604 quindi esattamente quando Maino arriva a Roma quindi non può non aver visto quest'opera nella chiesa degli oratoriani San Matteo e l'Angelo il 1602 questa è la prima versione che come abbiamo visto cita anche Tristan data distrutta durante la guerra a Berlino e questa è la seconda versione che tuttora sull'altare della cappella Contarelli stavo dicendo ieri che da recenti indagini abbiamo scoperto una cosa strana praticamente che la preparazione di questo dipinto è verde verde smeraldo verde smeraldo meraviglioso del tutto inusuale in Caravaggio e non l'avevo mai visto e l'altra cosa molto interessante è che tutte le due figure sono completamente incise utilizzando questa tecnica che ormai sappiamo Caravaggio appunto di cui Caravaggio si serviva per la composizione delle sue opere le due figure sono incise ma sono incise nude sono incise nude e poi lui le ha tutte rivestite dei panneggi ancora sempre questa veloce carrellata sulle maggiori opere romane dell'epoca 1604-15 la Madonna dei Pellegrini in Sant'Agostino un'opera spettacolare tra l'altro praticamente guardate come convivevano le tendenze diverse a Roma lo stesso soggetto negli stessi anni trattato da Annibale Carracci e da Caravaggio guardate che differenza assoluta cioè l'aderenza di Annibale alla tradizione cioè che vuole la Santa Casa trasportata dagli angeli a Loreto completamente diversa l'iconografia di Caravaggio che tra l'altro sintetizza la presenza della casa solo con questo stipide della porta proprio queste sono due opere che mi hanno assolutamente contemporanee che mi hanno sempre fatto pensare dall'estrema varietà di modelli e di maestri che erano a Roma nell'epoca ancora nel 1605 la morte della Vergine che è a Louvre e la Madonna dei Pallafrenieri e la Galleria Borghese sapete anche questo fu un'opera rifiutata poi comprata dal Cardinale Scipione Borghese e eseguita proprio a ridosso della sua fuga poi nei feudi Colonna subito dopo l'omicidio di Ranuccio con Tommassoni ancora qui guardate di nuovo con la Madonna dei Pallafrenieri questo solo per farvi vedere proprio questi due pittori che pure si ammiravano noi sappiamo dalle fonti si rispettavano ma come fanno due cose assolutamente diverse qui la palla di Annibale è tutta giocata sulla centralità vedete la centralità della Vergine del Bambino della Casa del Santo e ai lati perfettamente simmetrici sono i due angeli in alto e gli altri due che reggono la casa mentre qui praticamente il centro di Caravaggio è completamente vuoto cioè uno imposta un quadro solo sulla centralità della parte più importante e lui invece no completamente vuoto e fa solo le due figure ai lati questo per dirvi quanto questo invece passiamo a Guidoreni Guidoreni è sicuramente il più importante degli allievi di Annibale a Roma e facciamo rapidamente un escursus queste sono le due opere che probabilmente per la chiesa di Santa Cecilia in Trastevere per il Cardinal ha sfrondato ma probabilmente dipinte ancora quando era a Bologna ancora qui la crocifissione di San Pietro cioè del Vaticano chiaramente ripresa da quella di Annibale però anche qui vedete come la centralità torna come in scusate ripresa naturalmente da quella di Caravaggio e torna alla centralità di Annibale invece e questo è curioso perché le collazioni di San Paolo è praticamente il pandan di Passarotto Passarotti quindi hanno ripetuto qui esattamente i due soggetti della Cappella Cerasi Paolo e Pietro e anche qui guardate la diversità questo capolavoro assoluto di Guidoreni e invece la diciamo così povertà esecutiva di invenzione di composizione di questo del tardo manierista Passarotto Passarotti bolognese anche lui è il figlio di Bartolomeo Passarotti ma insomma anche qui due committenze ufficiali con questo diciamo gap stilistico veramente impressionante ancora qui Guidoreni 1605 quello che è ritenuto una delle opere di Guidoreni più aderenti a Caravaggio e questa bellissima le San Pietro e Paolo di Milano Breda 1606 anche questo vedremo che in effetti anche questa figura bellissima di San Pietro a mio avviso dipende da quella del Caravaggio perduto che era Berlino poi bombardato ancora qui Guidoreni il Martino di Santa Caterina di Consciente guardate qui che razza di salto indietro che fa Guidoreni cioè quando si tratta tra l'altro questa è una committenza di Ottavio Costa il banchiere genovese che era tra l'altro il partner economico di Herrera quindi insomma anche molto importante anche per la Spagna deve fare una una manda una pala d'altare nella sua diciamo città d'origine e Guidoreni fa una 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 diciamo una pala d'altare che dal punto di vista compositivo si rifà all'indietro cioè evidentemente per Roma c'era un linguaggio e invece quando doveva andare in provincia ce n'era un altro ancora la Pentecoste della Sala delle Dame questa è una committenza di Paolo V che fu eletto Papa nel 1605 ma insomma e questa appunto è un'opera del 1608-9 che può aver visto come può aver visto Maino anche questa assunta che è del 1607-10 che è nel Londra National Gallery qui è l'oratorio di Sant'Andrea fatto per Scipione e Borghese in cui si contrappongono Guidoreni e Domenichino anche questo 1609 quindi sicuramente Maino l'ha visto questa è la scena di Sant'Andrea condotta al martirio di Guidoreni questa invece è quell'altra più sofferta molto più rigida se vedete meno fluida di Domenichino che però in questo taglio di luce denuncia che comunque pur nel suo iperclassicismo non può fare a meno di fare una citazione di tipo caravaggesco qui ancora sempre per Scipione Borghese Guidoreni e l'oratorio di Santa Silvia sempre 1608-9 questo è il coro di Angeli che a mio avviso può avere influenzato Maino poi lo vedremo questa è la cappella dell'annunciata al Quirinale una comittenza più importante che Bereni all'epoca direttamente dal Papa questa era la cappella privata all'interno del palazzo del Quirinale che come sapete era il palazzo del Papa fino alla fine dell'Ottocento questa è la pala d'altare appunto della cappella dell'annunciata e facciamo rapidamente Domenichino Domenichino può aver interessato Maino essenzialmente per il paesaggio ne ho portati alcuno questo è il famoso guado questo è il paesaggio che si trova la Vergine con l'unicorno nella parete della della Galleria Farnese questo sempre Palazzo Farnese ancora gli affreschi staccati di Palazzo Farnese qui bellissimo questo quadro che è a San Pietro in Vincoli dove troviamo Domenichino che rilegge Raffaello perché qui dietro c'è chiaramente Raffaello delle stanze vaticane ma nelle luci e in questa intensificazione delle ombre anche qui secondo me non ha potuto fare a meno di guardare Caravaggio vedete anche questo è il portico di Santo Nofrio abbiamo visto lavorava anche Despasiano Strada queste sono le lunette del portico qui vedete una citazione bellissima del Torso del Belvedere da parte di Domenichino ancora questa l'abbiamo già vista questo ancora è l'adorazione dei pastori di Edimburgo sempre di questi anni e questa è l'abbazia di San Nilo altra impresa bellissima di Domenichino queste sono le storie di San Nilo questo è anche un capolavoro non tanto questo ma quanto incredibile nel palazzo Giustiniani a Bassano di Sutri un meraviglioso palazzo che non conosce nessuno chiuso forse da cento anni completamente interamente affrescato da Domenichino e Albani e la scuola bolognese quindi tra l'altro questo è uno lo stanno recuperando e questo è uno degli affreschi che è stato recuperato e queste sono le lunette Aldobrandini che sicuramente mei non ebbe presente per quanto riguarda i caravaggeschi ecco Borgiani che appunto ha questa importanza per essere stato fino al 1605 qui in Spagna e quindi ha costituito un ponte fra queste due culture queste sono le prime opere probabilmente fatte a Roma dopo rientro a Roma questo bellissimo ce l'avete qui a Madrid all'Accademia di San Ferdinando del 1605-16 e come secondo me a mio avviso pur trasfigurato ma il modello è quello della Giuditta Eoloferne che era costa anche questo non a caso quindi probabilmente è un quadro costa quindi legato alla Spagna e quindi è probabilissimo che Borgiani lo abbia potuto vedere come vediamo appunto da questa questo è il quadro che ha fatto vedere anche Mina Gregori ieri questo era l'intero prima che il quadro fosse ridotto a un quarto come vedete era un'opera straordinaria del 1608 uno dei primi esempi del caravaggismo romano e qui ancora a Borgiani fra il 1607 e il 1610 sono i quadri che sono a Valladolid e io credo che Maino non possa non aver visto dei quadri che andavano in Spagna quindi li ho portati tutti questa è una figura straordinaria e questo è Borgiani che abbiamo visto anche prima con questa magnifica cesta famosissima e questo è il mistero dei misteri 1609 documentati precisamente sono le storie di Papa Silvestro che sono a San Silvestro in Capita questa è la prima volta che qualcuno le vede a colori perché di questa almeno io credo perché di queste due opere esistono riproduzioni in bianco e nero quanti ne volete però recentemente sono state restaurate queste sono le prime foto a colori che sono state fatte dopo il restauro quindi diciamo avete un piccolo scoop non riusciamo assolutamente a capire chi sia questo artista chiaramente caravaggesco come vedi con delle citazioni particolarissime chiaramente un colorista come vedete e ci stiamo chiedendo dopo il restauro se sono addirittura se è uno o se sono due perché effettivamente i dati stilistici non sembrano poi essere così coincidenti però ecco questo è un mistero è stato attribuito a Borgiani ma ormai nessuno più ci crede è necessario che qualcuno si dedichi a questi due dipinti e cerchi di capire effettivamente a chi possono essere ricondotti ancora Orazio Gentileschi io concordo premetto assolutamente con quelle che sono le conclusioni di Mina Gregori effettivamente Orazio Gentileschi fu il vero punto di riferimento di Maino a Roma e effettivamente assolutamente tutto ciò che lui vede di Caravaggio è filtrato attraverso Orazio Gentileschi e le altre diciamo motivi che lui riprende sia da Caravaggio che dai bolognesi eccetera sono delle citazioni delle citazioni che vengono inserite in quella che è la diciamo così la particolarissima interpretazione di Orazio che dell'opera di Caravaggio fa Orazio Gentileschi qui abbiamo questa la famosissima Pala di Brera che praticamente oddio ha un significato particolare perché l'è stata anticipata la datazione da un documento proprio da una visita pastorale addirittura al 1606-17 quindi un'opera precocissima noi pensavamo fosse molto più tardi questo è il battesimo di Cristo del 1607 anche questo documentato della Cappella Olgiati in Santa Maria della Pace ancora questo l'avete qui il San Francesco sorretto dall'angelo del Prado di Madrid e la circoncisione di Ancona al Museo Civico il San Michele di Farnese questo bruttissimo purtroppo questa foto del quadro di Dublino ecco e Saraceni l'altro grande in effetti l'altro grande maestro maestro se vogliamo dirlo così di Maino a Roma questa 1606 anche se la data in realtà che era scritta sulla tela si è rivelata a essere una data postuma però insomma diciamo la presenza di questa anche se è una data apposta dopo è chiaro che non può essere casuale quindi si pensa in effetti che possa essere un'opera del 1606 questa è la bellissima Madonna con il bambino Sant'Anna della Galleria Nazionale sempre di Saraceni per finire i tardomanieristi dei tardomanieristi l'unico che effettivamente può aver sembra aver colpito Maino è Baglione queste sono i due le due redazioni dell'amor sacro e dell'amor profano di Baglione qui c'è anche una storia un po' piccante recentemente Rettgen ha proposto che in questa seconda o prima versione in realtà non è ancora chiarissimo quale sia la prima e quale sia la seconda versione che però questa è firmata e datata a Giovanni Baglione nel 1602 in realtà Baglione che già non doveva essere in buoni rapporti con Caravaggio avrebbe dipinto il diavolo con le fattezze di Caravaggio e secondo si appoggia a dei racconti di fonti seicentesche in realtà Baglione avrebbe dipinto in questo quadro l'amore divino che va a interrompere un rapporto diciamo così omosessuale fra Caravaggio rappresentato come il diavolo e Cecco del Caravaggio che avrebbe le fattezze appunto dell'amor profano a terra quindi ecco questo sono i due l'amor profano di Baglione che furono eseguiti come forse sapete in competizione per Benedetto Giussiniani in competizione con l'amore vincitore di Caravaggio fatto per Vincenzo Giussiniani e che era il pezzo più importante della collezione di Vincenzo e che era tenuto nascosto dietro una tenda che veniva fatto vedere solo al visitatore solo alla fine del percorso diciamo di visita della galleria Giussiniani e questo è il Baglione e la resurrezione che sarà giustamente accostata al dipinto di Maino e questo appunto nella resurrezione che abbiamo visto c'è questa figura di spalle che è stata ripresa anche più volte da Maino e che come giustamente ha già notato Mina Gregori e dipende sicuramente dalla figura che si trova nel martirio di San Matteo di Caravaggio ancora qui una cosa abbastanza orribile una pala d'altare di Baglione fatta per Perugia e qui ancora Baglione 1608 chiaramente derivata dalla palla della palla della palla della palla della palla della palla della palla di Caravaggio eccola qua a partire da questo famoso angolo meraviglioso di Caravaggio di cui Baglione non ha capito assolutamente niente però insomma ecco vedete qua come ha spostato lui pensa che spostando le figure riesce a così a non far identificare quella che è la sua fonte e queste sono le tre pietà così tanto per come sono diciamo compiute nell'arco di pochi anni vi fanno vedere le varie tendenze dell'arte a Roma Baglione Annibale e Caravaggio ancora qui un'altra figura di Baglione sempre un soggetto caravaggesco la Giuditta anche qui un paragone piuttosto impieto il Cavalier d'Alpino il Cavalier d'Alpino era il capo di tutte le imprese quindi era un pittore di riferimento molto molto importante non particolarmente interessante vi ho portato qui la Madonna col bambino in trono di Kansas City del 1608 ancora Giovanni Battista Ricci siamo in un ambito proprio tardomanierista vedete la caduta di Saulo come la no ho sbagliato che non è la creazione vabbè insomma comunque questa è la caduta di Saulo e vedete l'interpretazione tardomanieristica del soggetto della Cappella Cerasi e poi c'è l'esplosione dei colori l'esplosione dei colori che arriva a Roma con Barocci l'istituzione della Cariezia che è a Santa Maria sopra Minerva una committenza di Clemente VIII del 1608 e abbiamo Rubens Rubens negli stessi anni la Vallicella 1606-8 e il trittico della chiesa della Vallicella 1500 ho sbagliato vabbè 1600 e anche qui l'adorazione dei pastori di Fermo che appunto rientra nella testimonianza di Rubens in Italia per concludere i toscani i toscani scusate qualità non buona della diapositiva questa è la Basilica dei Santa Maria degli Angeli guardate però questa figura qua da chi deriva da Caravaggio che è incuriosamente addirittura assurdo a pala d'altare e qui ancora Domenico Cressi il Passegliano questi sono tutti i famosi artisti toscani contro i riformati cioè la via toscana alla reazione al tardo manierismo ancora qui Anastagio Fontebuoni Baccio Ciarpi e Maino finalmente siamo arrivati spero di non facciamo rapidissimo perché ho pochissimo tempo questa è una sintesi praticamente della vita di Maino ho notato scorrendo il catalogo appunto mi sono resa conto che in realtà Maino ha pochissime opere certe sono molte attribuzioni naturalmente basate su racconfronti stelistici in sintesi la sua produzione è improntata all'esperienza romana non c'è dubbio e soprattutto a Gentileschi su questo non c'è dubbio ma si inserisce perfettamente Maino in questa in questo particolare interpretazione che dell'arte di Caravaggio danno i primi caravaggiani caravaggeschi cioè appunto soprattutto saraceni e Gentileschi cioè sono persone che non questi artisti non è che subiscono il fascino di Caravaggio come saranno poi gli artisti della seconda generazione a cominciare da Manfredi in poi ma che saranno attivi nel secondo decennio questi artisti che vivono la prima esperienza caravaggesca non è mai un'adesione convinta e totale anche quella di Tristanna è convinta e totale ma Maino Gentileschi e Saraceni in parte anche Borgiani in realtà compiono una sintesi una sintesi tra l'altro originalissima perché ognuna combina quella che è questo impatto violentissimo e potente dell'arte di Caravaggio con quella che erano state le sue quella che è stata la loro formazione iniziale quindi per Gentileschi il tardo manierismo quindi lo vediamo tutto questo diciamo lui si porta appresso tutto quello che era la sua formazione tardo manieristica nei cantieri papali romani e Saraceni si porta dietro l'esperienza veneta Borgiani è un caso un po' a parte e Maino arriva a Caravaggio a mio avviso appunto come pensa anche Mina Gregori attraverso Gentileschi quindi però ha uno sviluppo autonomo gli artisti caravaggioschi della prima generazione hanno sempre questa sintesi una sintesi che è diversa a seconda dei casi che tra l'altro dà dei risultati di grandissima originalità qui il paesaggio proprio velocissimo il paesaggio con San Giovanni Battista che è in mostra concordo assolutamente con il confronto che è stato fatto con il San Giovannino attribuito a Caravaggio che è a Monaco e che a mio avviso bisognerà ripensare perché l'attribuzione in realtà a parte i marini insomma non erano molti a condividerla forse va rivisto un momento questo problema ancora la convenzione di San Paolo di Valladolid questo ripreso viene suggerito anche nel catalogo dagli arazzi di Raffaello e danni Balecar oh oh sbagliato però c'è anche Caravaggio dietro c'è anche Caravaggio e soprattutto c'è Caravaggio non solo qui nel martirio di San Matteo ma anche e mi dispiace qui non ho una diapositiva per dimostrarlo ma anche una prima idea per la famosa caduta di Saulo così meravigliosa in realtà ripeteva in maniera abbastanza precisa il gesto e la posizione del San Matteo e quindi vedete era una cosa diciamo che non veniva sicuramente da Raffaello ma era stata ampiamente rielaborata appunto all'inizio del Seicento qui va perfetto l'abbinamento con Baglione la crucifissione questa è una cosa un po' misteriosa secondo me perché questo gruppo di soldati che giocano a dati in realtà ho l'impressione che sposti la datazione più tardi però insomma comunque un quadro di grandissimo interesse e molto bene anche qui il confronto col disegno di Annibale la Trinità effettivamente nella Trinità come dicevamo ieri c'è questa accensione cromatica e questa preziosità nella descrizione degli abiti che può in effetti derivare dalle tele di Rubens l'annunciazione questa magnifica che appunto è stato proposto l'abbinamento sì l'abbinamento il confronto con Annibale ma anche c'era quella di Guidoreni quindi lui aveva questo San Pietro Penitenti naturalmente questo di Tristan l'abbiamo già visto che viene da Caravaggio questo è il retablo famoso qui c'è ecco ecco questa secondo me è la dimostrazione della della di più forse più calzante perché come luci come colori come impostazione cioè nel senso è proprio si vede che la pala di Gentileschi e quella di Maino sono assolutamente vicinissime questo è il Galata Morente che è stato più volte accostato anche sul catalogo alla figura sdraiata ecco questo tra l'altro c'è un mistero perché il Galata Morente in realtà questa è stata scoperta nello scavo proprio a Palazzo Madama tra l'altro dove era la residenza del Cardinal del Monte quindi dove abitava Caravaggio però la scoperta diciamo così ufficiale del Galata Morente è più tarda perché risale mi pare al terzo decennio del Seicento però evidentemente qualche cosa un disegno una copia un qualche cosa doveva esistere se Maino lo colpisce la riprende così precisamente mentre vorrei proporre questo confronto per questa bellissima mano dell'angelo appoggiata sulla nuvola e la mano di Oloferne d'altronde la Giuditta Oloferne di Caravaggio era un quadro Costa quindi anche qui ritorniamo in ambiente spagnolo e quindi accessibile perché diciamo Maino vede le grandi committenze romane ma probabilmente anche i quadri che aveva Costa che appunto era legato così legato alla Spagna ancora qui la resurrezione ancora il Galata Morente e qui ho messo le tre matrici diciamo Caravaggio il Galata e la resurrezione di Maino la Pentecoste e quel San Giovanni Battista del Prado benissimo l'accostamento col San Giovannino di Kansas City questo è il confronto con dei murali di Toledo proposto da Benedetti naturalmente non c'è dubbio altri ne vorrei proporre qui per questa zona del coro angelico questo è un quadro di Guidore una Santa Sicilia di Guidore i regni vedete chiaramente derivano poi in ultima analisi dalla Santa Sicilia di Raffaello però vedete come i due amici i regni e i maino hanno interpretazioni molto simili anche addirittura nella posizione che poi è quella veramente quella corretta e con cui viene suonato il violino o il viola forse è una viola questa e ancora Maino e Gentileschi vedete diciamo nell'angelo che suona l'organo che naturalmente è una trasposizione anche qui di iconografia di Santa Sicilia però questo fatto di rivolgersi allo spettatore non è poi così usuale quindi ho ritenuto opportuno accostare questi due dipinti ancora abbiamo visto dall'oratorio di Santa Silvia il coro angelico della cappella del Quirinale questo ancora Maino ah qui c'è per me un mistero cioè io credo che queste due figure siano strettamente legate cioè nel senso nel suonatore di viola sembrano molto simili salvo che c'è un piccolo problema che questo quadro è stato dipinto da Domenichino nel 1626 quindi non si capisce come evidentemente c'era un prototipo forse carraccesco da cui entrambi hanno anche perché appunto questi sono nel 1620 quindi a meno di non ipotizzare un influsso di Maino su Domenichino insomma bisogna pensare qualche cosa lo stesso queste sono le due in coronazione della Vergine questi sono sicuramente questi sono i Puttini che può aver tranquillamente desunto da Reni così come appunto le due versioni questa è quella di Londra quella precedente quella di Madrid e questo è anche quello che Reni aveva dipinto a Santa Silvia quindi può aver visto sia gli affreschi e sia diciamo le due in coronazione ancora ecco questo è il sollevamento di questa bellissima cornice dorata con questa figura che a mio avviso potrebbe essere stata ripresa della Madonna di Loreto di Annibale la durazione dei pastori di nuovo torna questa figura prima di vedere il quadro pensavo che fosse un ricalco in realtà il formato è molto più piccolo quindi non può essere sempre Galata e la Pentecoste può aver visto quella di Guidoreni e ancora questo secondo me è l'ultimo quadro è della sintesi totale della pittura di Maino dove in un'epoca molto più avanzata con tutte le esperienze che lui fece sulla pittura spagnola contemporanea in realtà qui abbiamo dei ricordi precisissimi di Orazio Gentileschi nella luce di questa figura e di una precisa diciamo così ripresa iconografica di questo da Guidoreni in questo puttino riconoscibilissimo che è qui appunto di lato ecco quindi fino all'ultimo Maino è vero che va avanti cambia e si modifica completamente ha altre esperienze però queste esperienze romane lui se le porta comunque sempre appresso grazie grazie a tutti grazie a tutti